è quello che possiamo fare per voi. Cerchio Firenze 77 attraverso Roberto Setti, la fonte preziosa, Kempis. Noi vi parliamo e cerchiamo di catturare la vostra attenzione, perché è il solo mezzo per spingervi, anche per coloro che sono temperamenti mistici, a meditare. A maggior ragione per coloro che sono temperamenti razionali. Questo è quello che possiamo fare per voi, prendervi da tutti i lati, da tutti i punti in cui voi siete vulnerabili per stimolarvi, per indurvi a suscitare in voi questo fluire del sentire.